Come benvenuto a questo cazzo video, comunque alla fine è stata le due partite, la Juventus è comunque schiantata, strutto rettamente il Cagliari nel secondo tempo, dopo il primo tempo era finita a darmi i pari, un perendorio 4-0, poi c'è stato il pareggio anche del Milan, il Milan che aveva, si è mangiato un sacco d'occasioni, il Milan ha sbagliato completamente le chance, poi la Juve ha preso le traverse, alla fine si poteva, ce l'aspettavamo dopo la Juve ha persa pure la Supercoppa Italiana, una reazione proprio netta, ci doveva stare si sapeva, però alla fine, tra poco trucca a noi, vediamo che cazzo abbiamo combinato contro il Napoli e anche a fare altre figure di merda, dopo il Napoli non sarà semplice ma ce la giocamo, comunque iscrivetevi a questa cazzo di pagina, cliccate, condividete, iscrivetevi al canale, ci sono un po' seguire un video dopo Napoli e Inter, le reazioni, però iscrivetevi sempre al canale, iscrivetevi, comunque fa una tripletta di Cristiano Ronaldo alla fine, pure David Hall ha giocato un'ottima partita, pure la difesa, la Juve ha giocato bene, però l'altra, alla fine hanno giocato tutti i giocatori, pare si sono ritrovati dopo la sconfitta in Supercoppa, comunque, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video